Prima di procedere, onorevoli colleghi, si è consentito alla Presidenza, in ordine a quanto è stato richiamato dagli onorevoli Donnadi e Polledri, ora che l'Assemblea nella sua sovranità si è pronunciata in ordine alla richiesta di rinvio in Commissione, si è consentito alla Presidenza esprimere il rammarico per la insensibilità mostrata dall'Esecutivo che non ha ritenuto opportuno fornire all'Assemblea ulteriori elementi di valutazione in ordine a quanto è stato richiamato, perché oggettivamente si tratta di questioni che hanno una loro fondatezza. A questo punto ha chiesto di parlare il Ministro per i rapporti del Parlamento, onorevole Giardo. Prevoli colleghi, vi prego di consentire al Ministro di parlare. Onorevole Presidente, prendo atto delle parole che lei ha voluto pronunciare sulla questione di cui questa Camera si è occupata. Onorevoli Deputati, a ciò autorizzato e incaricato dal Consiglio dei Ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione del disegno di legge di conversione del Decreto Legge numero 1 del... Onorevoli colleghi, vi prego... Atto Camera 5025, nel testo delle commissioni identico a quello approvato dal Senato. Grazie. Onorevole Evangelisti, per che cosa? Grazie.